Il 21 febbraio 2021 si festeggerà il 35esimo anniversario di The Legend of Zelda, una delle saghe più importanti della storia del videogioco. Sebbene non si sappia ancora come Nintendo abbia deciso di festeggiare questa ricorrenza, l'occasione è perfetta per riscoprire alcuni dei passaggi fondamentali di una serie che ha rivoluzionato i videogame e che ancora oggi è in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico grazie a dei capolavori senza tempo. In attesa di scoprire qualcosa di più a proposito di Breath of the Wild 2, oggi partiremo dall'inizio della leggenda, da quel lontano 1986, anno in cui uscì per Famicom Disk System il primo indimenticabile The Legend of Zelda. Partiamo! A 35 anni di distanza è difficile intuire al volo la monumentalità di un'opera come il primo The Legend of Zelda. Il gioco, secondo gli standard odierni, può risultare estremamente datato sotto numerosi aspetti. Dalla presentazione grafica, figlia dell'epoca 8-bit, al game design, estremamente criptico e confusionario, il titolo si configura come un'esperienza tutt'altro che fluida e intuitiva. Ma appunto si tratta di un'opera che va contestualizzata per poterne apprezzare appieno tutta la sua carica rivoluzionaria. Il primo The Legend of Zelda nacque dalla mente di Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, gli stessi nomi dietro a un'altra importantissima serie che vide gli albori su NES nel 1985, Super Mario Bros. I due titoli videro uno sviluppo in parallelo e il compito principale di Miyamoto era quello di differenziare i concept di gameplay che emergevano durante la lavorazione. Le idee per Mario dovevano essere ben diverse da quelle per Zelda. Se il primo era un gioco semplice e lineare dall'azione serrata che costringeva il giocatore a prendere delle rapide decisioni per proseguire all'interno dei livelli, The Legend of Zelda sarebbe dovuto essere l'esatto opposto. Quest'esigenza di non linearità si originava dai ricordi di infanzia del game designer che voleva ricreare quel senso di stupore che provava nel girovagare senza una meta nelle campagne vicino a Kyoto. Per Miyamoto l'esplorazione senza punti di riferimento doveva essere il concept fondamentale alla base di Zelda, e la vera libertà data al giocatore sarebbe stata quella di potersi perdere, sin dall'inizio. Il problema è che fino a quel momento non si era visto nulla del genere e il grande passo in avanti compiuto dalla produzione targata Nintendo fu proprio quello di proporre la perfetta sintesi tra la complessità tipica dei GDR di sample occidentale che dominavano il mercato degli home computer e l'immediatezza del gameplay propria delle console casalinghe. Per un progetto così ambizioso il team di Miyamoto decise di sfruttare il Disk System, la nuova periferica per Famicom di cui Zelda sarebbe stato uno dei titoli di lancio. Il supporto dei floppy disk proprietari non solo permetteva di usufruire di maggiore spazio di archiviazione, ma anche di adottare un sistema di salvataggio che garantiva una continuità mai vista prima d'allora su console. Con ben 128 KB a disposizione, 4 volte tanto lo spazio presente su cartuccia e alcune piccole migliorie come un nuovo canale audio da sfruttare per gli effetti sonori, The Legend of Zelda era senza dubbio il titolo più complesso mai apparso su NES e un videogioco che avrebbe scardinato tante delle convenzioni dell'intrattenimento digitale. La storia di The Legend of Zelda viene solo brevemente accennata nel manuale di istruzioni e nella breve introduzione, ma servirà per gettare le fondamenta di tutta quella mitologia alla base della serie. La terra di Hyrule è messa sotto scacco dal perfido Ganon, il principe dell'oscurità, che dopo aver rubato la Triforza del Potere vuole impadronirsi della Triforza della Saggezza, secondo dei tre artefatti che una volta riuniti possono garantire un potere senza eguali. La principessa Zelda, prima di venire imprigionata da Ganon, spezza in otto frammenti la Triforza della Saggezza, sigillandoli all'interno di altrettanti dungeon e chiede alla sua servitrice Impa di trovare qualcuno abbastanza coraggioso per recuperarli e porre fine alle malvagie macchinazioni del Principe delle Tenebre. Il coraggioso eroe Link, già dal nome, viene concepito come quanto più anonimo possibile, un avatar che doveva essere una semplice connessione, da qui Link, tra l'utente e il mondo di gioco. Basto sconfinato e ricco di segreti, il mondo di Hyrule è il vero protagonista dell'avventura. Questo prende la forma di una vasta mappa di gioco in due dimensioni, con inquadratura dall'alto, composta da vari quadri statici. A differenza del frenetico platforming di Mario incentrato sullo scrolling laterale, la vista aerea di Zelda impone da subito un ritmo molto più riflessivo e ragionato. La progressione non è affatto lineare e già dalla prima schermata al giocatore non sono dati degli espliciti riferimenti su come proseguire ed è la natura stessa del gioco a non imporre un percorso prestabilito di completamento. Gli otto dungeon che custodiscono i rispettivi pezzi della triforza più il dungeon finale sono accessibili dalla world map e a loro volta si sviluppano in un underworld dalla struttura labirintica che raddoppia l'estensione del mondo di gioco. Per gli standard di allora e in particolare quelli di oggi, The Legend of Zelda era un gioco estremamente difficile da completare, anzi quasi impossibile da portare a termine. È chiaro come il titolo sia pensato per mettere in difficoltà il giocatore e farlo immediatamente sentire smarrito. Nell'approcciare Zelda bisogna rendersi conto che il mondo di gioco richiede di essere esplorato, scoperto e vissuto. Già solo prendere la spada, che verrà regalata al giocatore entrando nella caverna della prima schermata, è un atto non automatico e opzionale, ma necessario, se si vuole avere qualche speranza di sopravvivere e rispondere agli attacchi dei nemici. Tutto all'interno di The Legend of Zelda va ottenuto con fatica e ogni singola meccanica di gameplay, dallo spostamento di blocchi e statue alla presenza di passaggi, segreti e scorciatoie, deve essere scoperto ricostruendo indizi testuali e suggerimenti visivi. La capacità di salvare il proprio gioco, feature presente anche all'interno delle versioni occidentali, grazie all'inclusione di una batteria aggiuntiva su cartuccia, garantiva la possibilità di creare un mondo persistente, che tenesse traccia delle scoperte dell'avanzamento del giocatore anche tra un avvio e l'altro del software. Questa forse è una delle più grandi intuizioni di game design, che non dovendo più essere relegato a un sistema di password, poteva concretizzarsi in un gameplay stratificato e complesso, che non esauriva tutte le sue potenzialità all'interno di partite di poche ore. In ogni caso, data la struttura non lineare, orientarsi nelle terre di Ariul non era affatto semplice. C'è sì un ordine suggerito di completamento, dove la difficoltà crescente dei dungeon viene attenuata da determinati oggetti e potenziamenti ottenuti durante l'avventura, ma non è affatto semplice intuire quale sia questa strada consigliata dagli sviluppatori, né capirne immediatamente tutte le diramazioni. Ma infatti notato che anche per i standard dell'epoca, The Legend of Zelda era estremamente dispersivo, questo perché Miyamoto cercò in tutti i modi di porre alla base dell'esperienza un nuovo tipo di socialità, un gameplay basato sulla comunicazione tra giocatori, nonostante si trattasse di un titolo single player. Tra enigmi tutt'altro che intuitivi e passaggi segreti nascosti in ogni dove, l'unico modo per orientarsi ed arrivare alla fine era quello di condividere la propria esperienza con gli utenti, una visione di gioco basata sulla comunicazione, che poi sarebbe stata la base di un'altra serie ancora oggi attualissima, quella di Animal Crossing. C'è poi un altro fattore da tenere a mente, un elemento completamente estraneo al gaming dei giorni nostri. Parte integrante dell'esperienza di The Legend of Zelda risiedeva all'interno del manuale di istruzioni e in particolare in un inserto fondamentale, la mappa di gioco. Situazione radicalmente diversa rispetto a quello a cui siamo abituati oggi. Tanto l'edizione giapponese quanto quella occidentale presentavano tantissimi suggerimenti e indovinelli su come proseguire all'interno dell'avventura e la mappa di gioco era uno strumento fondamentale per orientarsi, non solo perché forniva una visuale spaziale complessiva di quello che era l'overworld di Arihul, ma anche perché dava importanti punti di riferimento sullo sviluppo della quest principale, come ad esempio l'ordine con cui affrontare dungeon. Senza entrare troppo nei meriti del gameplay e di come le intuizioni di game design, per quanta cerbe, abbiano introdotto tantissimi standard comuni a tutti i videogiochi, va sottolineato ancora una volta quanto The Legend of Zelda rappresentò un punto di rottura nella storia del gaming su console. Sono chiare le influenze che in quegli anni l'industria giapponese prendeva a piene mani dall'occidente e se il 1986 vide il debutto di Dragon Quest, il capostipide del GDR di stampo nipponico, allo stesso modo Zelda rappresentò l'incipit dell'action RPG, ovvero un gioco in grado di riportare la complessità del gioco di ruolo occidentale all'interno dei canoni dell'immediatezza dell'arcade giapponese. Per molti The Legend of Zelda non è un GDR puro, mancando del classico sistema di progressione fatto di punti esperienza, ma non per questo la crescita del personaggio è assente. Tramite strumenti e riequipaggiamento le capacità offensive e difensive di Link crescono a dismisura, così come la possibilità di aumentare la propria barra della vita tramite la raccolta di specifici oggetti sostituisce a tutti gli effetti il livellamento classico degli RPG. Manca la verbosità tipica delle avventure testuali e il combattimento in tempo reale è ben più immersivo dei turni che simulano un lancio di dadi, ma è chiaro quanto Nintendo abbia ripreso dei dungeon crawler in prima persona e come si è riuscita ad adattare ad un controller con soli due tasti un'enorme complessità di fondo, fatta di menu, statistiche e mappe intricate. Il cambio tra azione e submenu risulta oggi macchinoso, ma all'epoca consentiva di gestire in tranquillità una grande varietà di informazioni e di oggetti, tutti indispensabili al loro modo. E nonostante la rudimentalità di tutte le sue meccaniche, è chiaro il motivo per cui Nintendo puntò tantissimo su questo gioco, anche e soprattutto per il suo lancio occidentale. Questo non solo lanciandosi nell'adattamento più complesso mai fatto fino ad allora, ma anche prestando grande cura nella conversione da disk system a cartuccia, cercando di non creare disparità evidenti tra le due versioni. Anche i fondi stanziati per la campagna marketing dedicata al titolo e la scelta di dare un colore oro alla cartuccia in contrapposizione al grigio standard degli altri titoli NES erano solo l'ennesima conferma della consapevolezza da parte di Nintendo che The Legend of Zelda sarebbe diventato da lì a poco un fenomeno su scala globale, una vera e propria pietra angolare del videogioco. The Legend of Zelda è un'esperienza datata sicuramente, ma è impossibile negarne il suo valore storico. Per questo, per dare il via alla retrospettiva, ho scelto l'artwork apparso sulle pagine di Famitsu in concomitanza con l'uscita di Breath of the Wild nel 2017. Rappresenta perfettamente l'idea delle evoluzioni della serie, ma anche quanto i concept rivoluzionari di Breath of the Wild siano stati sviluppati proprio tenendo a mente l'approccio open world e non lineare del primo capitolo dell'86. Non è un segreto che i primi prototipi del capolavoro uscito nel 2017 siano stati creati proprio su un engine simile a 8-bit e se vogliamo Breath of the Wild è un reboot concettuale, una reimmaginazione di quello che da sempre The Legend of Zelda sarebbe dovuto essere. Un'avventura senza limiti, un titolo pensato per riaccendere nel giocatore la meraviglia di un ragazzo che si perde in una natura incontaminata e la rende propria grazie al potere della sua immaginazione, una leggenda che a distanza di 35 anni dal suo debutto ancora oggi non accenna ad esaurire le sue potenzialità. Poracci, questo era l'inizio della retrospettiva dedicata a Zelda, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e se volete dare un supporto al canale vi invito a mettere un like, a lasciare un commento e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi le restanti parti della retrospettiva. Non mi resta che darvi appuntamento ai prossimi video, io sono il Poro Zelda, Michele35, ciao! Grazie a tutti!